Dura presa di posizione del presidente turco Erdogan che cancella la visita programmata in Israele sostenendo che i militanti di Hamas sono dei liberatori che combattono per la loro terra e non dei terroristi e definendo disumana la guerra dello stato ebraico contro Gaza. Intanto resta altissimo lo scontro diplomatico tra Israele e il segretario generale dell'ONU Guterres il quale ieri aveva affermato che le azioni di Hamas nascono da 56 anni di occupazione israeliana. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU ha chiesto le dimissioni di Guterres mentre il Papa lancia un nuovo appello per il rilascio degli ostaggi e l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza dove secondo i dati drammatici dell'UNICEF sono morti in 18 giorni 2360 bambini e nelle ultime 24 ore si contano 704 morti, il maggior numero da inizio guerra. Medio Oriente, Ucraina, emergenza e immigrazione, rischio terrorismo, questi temi che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato nel suo discorso oggi in Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopo domani a Bruxelles. Un vertice in cui, ha detto la Premier, l'Unione Europea è chiamata a dare risposte forti e urgenti alle difficoltà che la stanno sfidando dall'interno e dall'esterno. Quanto alla crisi israelo-palestinese non devono esserci dubbi a sostenere il diritto di Israele a esistere, ha affermato Giorgia Meloni, che ha sottolineato anche l'importanza di contribuire alla de-escalation e a riprendere quanto prima l'iniziativa politica per arrivare ad una soluzione strutturale. Arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva due popoli, due Stati. Sono convinta che lavorare concretamente e con una tempistica definita a una soluzione strutturale per la crisi israelo-palestinese sarebbe anche il modo più efficace possibile per svelare il blef di Hamas agli occhi dei palestinesi e contribuire a sconfiggere. Grazie a tutti. Il numero delle famiglie che non sono in grado di acquistare un paniere di beni e servizi necessario per una vita minimamente accettabile ha superato i 2 milioni, salendo così all'8,3% dal 7,7% del 2021. Presentato a Roma dall'Inps il rendiconto sociale 2022. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, nella sede della Direzione Generale dell'Istituto a Roma, ha presentato il rendiconto sociale 2022, che fotografa le prestazioni erogate e di riflesso la situazione del welfare italiano. Prestazioni che sono molto aumentate negli ultimi anni, così come è cresciuto il numero delle persone che si rivolgono all'Inps. L'Istituto ha risposto a queste esigenze aumentando il livello qualitativo delle sue prestazioni, ad esempio si riducono i tempi di attesa per molte prestazioni nella media e vi è un'attenzione maggiore, anche grazie alle nuove tecnologie e alle competenze delle persone, quella che è la qualità del servizio. Abbiamo però obiettivamente, come ci ho messo anche in rilievo, quelli che sono anche i punti deboli, su cui invece riteniamo opportuno sollecitare la gestione e intervenire, perché vi sono alcune situazioni in particolare per alcuni servizi, in particolare in alcuni territori, che sicuramente richiedono proventi e interventi straordinari. Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti del Parlamento e del Governo, oltre ai vertici dell'Inps. Sono stati messi in luce vari aspetti che meritano di essere attenzionati, come sapete l'Istituto è un organo che ha una combinazione duale all'interno degli organi di gestione, che è un sistema duale che secondo me offre delle potenzialità importanti, proprio perché ogni gestione passa per un confronto anche molto proattivo su quelle che possono essere le soluzioni più efficaci. Per il bene del Paese e delle imprese. Dagli intervenuti anche l'unanime ringraziamento al personale dell'Inps. Pilastro della dieta mediterranea, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, torna anche quest'anno il World Pasta Day, un evento che celebra ogni 25 ottobre il piatto italiano più amato per antonomasia. Gli italiani la amano e la mangiano almeno una volta al giorno a livello internazionale. La pasta è uno dei piatti più cucinati e apprezzati e secondo i pastai, guardando al futuro le prospettive sono di nuove cotture veloci, ma anche nuove tipologie di farine e porzioni ridotte da mangiare più spesso.